Buongiorno e buon inizio di settimana, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Udinese TV, cominciamo come sempre ogni giorno con la rassegna stampa e andiamo subito a vedere le ultime notizie che riguardano il conflitto in Russia, aggiornamento con il sito dell'agenzia Anza che riporta in prima pagina nella sua home page questa foto con il titolo che si riferisce a Mariupol dove ormai la città è diventata una trappola a sedio a Kiev con le truppe russe che sono ormai a pochi chilometri dalla capitale e Zelensky che lancia un appello e soprattutto un grido di allarme e di dolore, ci volete uccidere lentamente? Mosca avverte Qualunque paese, ospiti, aerei militari ucraini sarà coinvolto nel conflitto, capo negoziatore ucraino pronti a discutere modelli non Nato, domani dovrebbe partire il terzo round di colloqui tra le delegazioni, l'ONU dichiara che ci sono più di un milione e mezzo di rifugiati fuggiti dall'Ucraina in dieci giorni, fallita la tregua dichiarata da Mosca, colloquio Putin-Macron il leader russo si è detto pronto a non attaccare le centrali nucleari, tutti si dicono pronti a fare qualcosa, nessuno fa niente e Putin continua a bombardare l'Ucraina, questo però è il senso di quello che sta avvenendo in questi giorni, intanto per quanto riguarda le conseguenze sull'economia di questo conflitto, il petrolio vede salire il prezzo a 140 dollari quasi, il Brent sale a 140 dollari e poi c'è il risvolto della censura, degli arresti in Russia e della repressione di manifestazioni contro la guerra, le organizzazioni non governative stimolano in 4.300 gli arresti nelle manifestazioni che si sono ottenute in 50 città russe, solo a Mosca sono oltre 1.600 i fermi nelle proteste di oggi, si riferisce a ieri, evidentemente dall'inizio dell'invasione russa già 11.000 i fermi, questo è quello che avviene in Russia in questo momento con chi manifesta contro la guerra e contro l'attacco del proprio paese ai fratelli, perché così li definiscono ucraini. Andiamo avanti adesso, andiamo a leggere i giornali, vediamo anche gli aggiornamenti che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, cominciamo con il Corriere della Seda che parla dei profughi in trappola, niente tregua, raid e spari sui civili, Zelensky ci massacrano lentamente, dateci i jet, Putin a Macron dice vado avanti, una foto vedete di un troll vicino ad un cadavere di una persona che è stata colpita a morte dagli attacchi delle truppe russe, una madre e due figli uccisi, il padre tra la vita e la morte, orrore in una città ad Irpin, città ad ovest di Kiev dove i soldati russi hanno aperto il fuoco su chi fuggiva verso la Polonia, ecco qui, questo è quello che accade, sparano sui civili in fuga, profughi in trappola, il titolo del Corriere della Seda. Andiamo avanti adesso, andiamo a leggere la pagina della Repubblica, devastante sofferenza, anche qui vedete immagini strazianti di corpi a terra, Stati Uniti verso lo stop al petrolio russo, l'Europa è divisa, a Mosca lascia il direttore del teatro Bolshoi, denuncia della Croce Rossa, scene spaventose, la gente vive nel terrore, si spara sui civili, continuano i bombardamenti, stallo diplomatico, Putin nel conflitto che ospiterà i getti ucraini, Zelensky dice battiamoci fino alla fine, Draghi, sostegno a Kiev, la posizione dei vari paesi, il giornale contro assedio a Putin, crescono gli oppositori, bombe sui civili, Croce Rossa e Papa contro l'orrore, leader mondiale in pressing, Russia un passo dal default, proteste, arresti e prime defezioni nell'intelligenza, Zelensky chiede i getti e sente Draghi sull'Ucraina in Unione Europea, eccole qui le immagini davvero scioccanti del cadavere con la valigia a fianco, stava scappando verso la Polonia, colpito a morte dal tiro dei soldati russi e poi qui a sinistra, chi l'uccisa un anno e mezzo, icona delle sofferenze devastanti, un bambino, una tragedia, vedete in questa foto i genitori con il piccolo di 18 mesi all'ospedale, tutto inutile, è morto. E poi ancora altre storie, il Cristo di Leopoli nel bunker come una tragica pietà bellica, era dai tempi della seconda guerra mondiale e che la statua non veniva rimossa e messa al sicuro, la statua rimossa dalla cattedrale ermena come nel 41-45. E poi l'appello per salvare Iana e Alexander, così mamma e figlio italiani sono bloccati in cantina fra i tank, quindi questa è un'altra storia con Iana e il piccolo Alexander che chiedono aiuto, sono di fatto prigionieri di questa folia. Andiamo a leggere adesso il quotidiano La Stampa, strage senza fine, le foto le vedete sono sempre le stesse e purtroppo raccontano, le troviamo su tutti i giornali, raccontano di questa immane tragedia, fatto quotidiano, Ucraina, mediatori in campo e Putin alza il tiro per trattare, Bennett va avanti, gli Stati Uniti chiamano la Cina, il Vaticano si rende disponibile. Il foglio, una Russia da amare, sovietico o no, a Paolo Nori che ha visto il suo Dostoyevsky censurato dalla Bicocca, sembra molto diversa da come le immaginiamo qui anche in questi giorni in cui tutti si sentono criminologi, la Russia che fa paura, i crimini di Putin, l'amore per un paese, il racconto di un suddito di Tolstoi e Brodsky, ecco questo è quello che scrive il foglio, che prova anche a parlare della Russia in chiave diversa da come la stiamo trattando e da come ne stiamo parlando in questi giorni. Guerra, allarme conti, attento Draghi, Confindustria avvisa con il caro energia, il piano per la ripresa è tutto da riscrivere, addio all'ecologia, ci toccherà di correre a carbone e petrolio e non basterà la legal premier, inaccettabili le forzature sulle tasse e sul catasto e si trova anche il tempo per fare un po' di polemica sulle questioni interne, lo zar minaccia a Cristo di Leopoli che è stato trasferito in un bunker, anche questa foto la troviamo su molti giornali, su quasi tutti i giornali che stiamo sfogliando. Andiamo sulla verità. Gli Stati Uniti creano un Afghanistan in Europa, Washington ripete gli errori del passato, l'Unione Europea gli va dietro armando gli ucraini, compresi i mercenari e i gruppi neonazisti, gli americani stanno ponendo le condizioni per un conflitto lungo e per la nascita nel cuore del continente di un movimento xenofobo e ultranazionalista che poi userà quell'arsenale contro di noi. Diplomazia al lavoro, ma Blinken dice forniremo a Zelensky aerei da combattimento. Reportage da Kiev nel luogo segreto dove si fabbricano i giubbotti antiproiettili, il reportage del quotidiano La Verità che fa questa analisi sulla quale anche altri si stanno spingendo in questi giorni, cioè armare in questo momento l'Ucraina significa aprire anche la possibilità che queste armi finiscano in mani sbagliate e che un giorno possano poi essere utilizzate contro di noi. Come è successo in Afghanistan quando furono armati i Mujahideen e quando ci fu poi la fine della guerra, quegli armi rimasero lì e sappiamo come è andata a finire con la nascita dei movimenti terroristici come Al-Qaeda. Andiamo adesso avanti ancora con la lettura del giornale, passiamo al gazzettino aerei a Kiev, diktat di Putin, stop all'invio di jet militari all'Ucraina, il leader moscovita chi dimanda è in guerra con noi, Zelensky accusa l'Occidente e chiede aiuto così ci lasciate morire e il sostegno di Draghi a Kiev e al suo presidente. E poi si parla anche di altro sulla pagina del gazzettino, si parla di problemi per l'industria, per l'economia, l'allarme da Lancia Bonomi, presidente di Confindustria, al governo da rivedere le tappe della svolta ecologica perché così con il problema che c'è con i costi dell'energia e con il possibile ricorso di nuovo a quelle fonti di energia che vorremmo eventualmente eliminare come il petrolio e come il carbone, bisogna rivedere tutto il piano. E poi c'è una bella notizia, così ho mandato il Covid al tappeto, parla il campione di pugilato Maurizio Stecca che qui vediamo sul ring in palestra ed è pronto per tornare ad allenare, questa è una buona notizia che pubblica oggi il gazzettino in prima pagina. Chiudiamo dalla segna nazionale con il sole 24 ore, il quotidiano economico finanziario apre con questo titolo, guerra in Ucraina, bollette, risparmi e imprese, il conto della crisi per l'Italia, è un conto che sarà abbastanza pesante. Andiamo a leggere anche gli altri capitoletti di questa pagina. Allora mercati e investimenti, borse sotto stress, le contromisure per proteggere il portafoglio ed ancora già stanziati 11,8 miliardi per il taglio dei costi dell'energia e di oneri ed IVA ridotta. E poi ancora Russia off limits, 2200 di aziende con metà export, tutto su Mosca. Più lauree in digitale, green e data science, questo è un altro titolo del quotidiano economico finanziario che parla di università. Ci spostiamo adesso all'interno, dove vedremo ancora notizie, pagine e titoli che si occupano della guerra in Russia, come il caso del messaggero Veneto che apre così, bombe senza tregua ed anche il messaggero, anzi il messaggero decide di farne proprio la foto principale della sua giornata, dell'apertura del giornale, quella del Cristo di Leopoli messo al sicuro, messo al sicuro per evitare che venga distrutto dai bombardamenti dei russi. Stoppa l'evacuazione dei civili, intanto i russi non ospitate a getto ucraini, Draghi a Zelensky, l'Italia vi sostiene. Andiamo a vedere la pagina della città di Udine, l'apertura della cronaca cittadina, la Russia riuvole i quadri, la mostra a casa Cavazzini non può essere prolungata, è stata una mostra di grande successo che il Comune avrebbe voluto prolungare per raggiungere, si è stimato, un pubblico complessivo di 45 mila visitatori, ma probabilmente bisognerà chiuderla il 27 marzo come previsto perché la Russia non autorizza i suoi musei a lasciare le opere ad Udine, ma in generale è un provvedimento che riguarderà tutte le mostre, tutte le esposizioni del mondo che dovranno tornare dunque in patria. Per adesso Mosca non autorizza il museo a lasciare le opere oltre il 27 marzo, visto che scendo i visitatori il Comune voleva posticipare la chiusura dal primo maggio. Senza quelle opere, dice Don Geretti, che è il curatore della mostra che sta avendo come dicevamo grandissimo successo, il senso del percorso artistico non avrebbe, non verrebbe meno, non sarà facile neppure organizzare il rientro di queste opere in Russia, un rientro che dovrà avvenire su gomma dal momento che i voli da e per la Russia verso l'Europa sono stati cancellati, chiusi, non è possibile viaggiare in aereo e dunque i quadri dovranno viaggiare su gomma con tutti i rischi che ne conseguono. Andiamo su Pordenone e andiamo a leggere la prima del quotidiano nella sua edizione destra tagliamento, l'apertura è identica, la foto ed anche il titolo cambiano le notizie di cronaca e allora andiamo a vedere subito la pagina della cronaca della città dove si parla di allarme nelle scuole per carenza di personale, oltre 300 richieste di mobilità, ricongiungimento alle famiglie d'origine, aumento dei costi e cambio di disciplina alla base delle scelte, dunque c'è il rischio che possano venire meno 300 unità negli organici delle scuole del Pordenonese, la questione degli organici viene riassunta qui questa grafica dove si parla dei numeri e sono dunque oltre 300 gli insegnanti, il personale ATA e gli impiegati amministrativi che si trasferiranno, pronti al trasferimento in 40 scuole del filo occidentale, le domande per la mobilità vanno consegnate entro il 15 marzo, non tutte saranno accolte, tra le ragioni di questo boom di domande e l'esigenza di ravvicinarsi a casa, la carenza dei supplenti preoccupa, soprattutto in scuole primarie e scuole medie e poi una soluzione potrebbe arrivare dai MAD supplenti non abilitati che hanno presentato domande garantendo la propria messa a disposizione, sarebbero quei giovani che appena laureati o addirittura ancora non laureati che vengono utilizzati per sopperire a carenze di organico, temporaneamente a carenze di organico e non lasciare completamente i ragazzi senza insegnanti per proseguire in qualche modo il programma che prevede l'anno scolastico, è una situazione complicata, difficile che va affrontata e speriamo risolta, fatto sta che 300 unità tra insegnanti e altro personale che lavora con la scuola, nelle scuole del Pordenonese potrebbe chiedere il trasferimento, avrebbe il diritto a chiedere il trasferimento anche se poi non è garantito che venga accolta la domanda come abbiamo letto sul messaggero. Andiamo sul piccolo, siamo sulla pagina della città di Trieste, della edizione principale, nessuna via di scampo, il Cremlino alza la posta, bombe sui civili, ci uccidono lentamente, Putin che ospita jet di Kiev entra in guerra e poi ancora come potete vedere qui sulla pagina di Trieste si parla delle proteste a Mosca con migliaia di arresti, Netflix e TikTok bloccano i servizi, ma tanto sarebbe arrivato Putin tra poco a bloccarli come ha fatto con Facebook e Twitter. Andiamo su Gorizia, la prima pagina dell'edizione di Gorizia, eccola qui, la prima è uguale, cambia la cronaca come sempre nelle due edizioni fra Trieste e Gorizia ma l'apertura in questo caso è la stessa, vediamo la pagina della città, referendum sulle piste ciclabili ufficiale, il no, valide solo 1.482 firme su 1.698 e dunque per quanto riguarda le ciclabili arriva questo no dal referendum, Marin Cic, commessi errori imperdonabili, ma non è un lavoro inutile, si punti sulla mobilità pulita, fallisce dunque il tentativo attraverso il referendum di ottenere un piano, la realizzazione di un piano di piste ciclabili a Gorizia, argomento di cui ci siamo occupati andando anche ad evidenziare tutte le contraddizioni del piano delle piste ciclabili in città a Gorizia e adesso è arrivato questo no. Invalidate 4 schede perché non sottoscritte dal pubblico ufficiale, certificatore più 96 schede irregolari e questo ha fatto saltare tutto a Gorizia. Andiamo adesso a parlare di sport, ci spostiamo sul, anzi andiamo sul gazzettino di cui non abbiamo ancora visto le pagine interne, la prima pagina l'abbiamo vista e andiamo sulla prima del Friuli. Ucraina, partiti i tir della solidarietà, dalla regione i camion e i furgoni diretti verso Leopoli, gli aiuti raccolti destinati anche agli orfanotrofi di Mariupol, i volontari dell'Associazione Ucraina Friuli impegnati in un'opera instancabile, grazie per la grande generosità. L'Udinese risale alla classifica, questa è la foto di De Olofeo che ha segnato domenica sabato contro la Sandor, il gol che ha aperto le marcature, seguito poi da Udogi che ha bissato sul 2-0 prima di prendere il 2-1 di Caputo, ma comunque l'Udinese ha vinto, punta adesso al decimo posto che può essere raggiunto considerando anche che l'Udinese ha due partite da recuperare contro la Salernitana e contro la Fiorentina. Affitti, un bonus dal Comune per 500 famiglie richieste da presentare solo online, si terrà conto della situazione dell'Isee assistenza in forte crescita, le assunzioni delle badanti e poi andiamo a vedere qui l'articolo dedicato a Federica Zille, la giornalista di Dazon di Pordenone che stiamo imparando ad apprezzare ogni settimana con i suoi interventi da bordo campo e sicuramente, eccola qui la vedete, la pordenonese Federica Zille, in questa foto il gazzettino le dedica un articolo sulla prima pagina dell'edizione del Friuli Venezia Giulia si parla anche di basket femminile con la Coppa Italia che vede sfumare il sogno delle ragazze della Apu Women, Delser che hanno perso in semifinale contro Brixia, adesso sarà il turno dei maschi perché inizierà la Coppa Italia maschile nel prossimo weekend, la Coppa Italia maschile di Serie A2, poi si riparterà con il campionato e ci sarà da recuperare per quanto riguarda la Old Wild West Apu, ci sarà da recuperare la gara contro Cantù che è saltata per problematiche Covid che riguardavano la formazione di Cantù. Questa è la pagina del gazzettino per quanto riguarda le notizie in genere, ma adesso andiamo nel dettaglio con lo sport e allora ci portiamo sulla prima pagina dell'inserto ogni sport che il gazzettino pubblica ogni lunedì. Decollo Udinese, ora l'obiettivo è la decima piazza, nelle ultime tre gare la squadra di Cioffi si è dimostrata in grande crescita, la sola nota stonata è stata l'ammunizione del brasiliano Wallace che adesso dovrà saltare la Roma. Vediamo qui ancora Deolofeu nella sua esultanza e poi l'abbraccio tra Deolofeu d'oggi e c'è anche Becao vicino, Deolofeu d'oggi sono stati i marcatori di questo match. Il ritorno di El Tuku Pereira sposta gli equilibri, Pereira sicuramente ha dato un impulso importantissimo alla squadra di Cioffi tornando da titolare dopo un periodo in cui era stato costretto prima a fermarsi a causa dell'infortunio alla spalla e poi ad un rientro graduale per ritrovare la forma migliore. Bianconeri due gol nei primi 15 minuti mancavano da nove anni, un po' di statistica sui numeri dell'Udinese e ancora sulle pagine del gazzettino che continuiamo a sfogliare per parlare anche di Pordenone perché il Pordenone in crisi ormai destinato a retrocedere, l'Ovisa però non molla, non molla la società, ha detto il Presidente, il Presidente rassicura i tifosi neroverdi, in caso di retrocessione lavoreremo per tornare subito in alto, mister Tedino ci manca sempre uno stoccatore. Adesso andiamo a vedere il messaggero venuto perché sul messaggero si parla anche di Pordenone, ci arriveremo dopo aver visto anche le pagine dell'Udinese e per quanto riguarda la posizione di Tedino si apre ad uno scenario che potrebbe portare alla mancata di conferma del tecnico, andiamo a vedere intanto per quanto riguarda l'Udinese sul messaggero veneto nel corposo inserto sportivo del lunedì, si parte con un'intervista a Beppe Dossene, ex dell'Udinese ed ex anche della Samp che l'Udinese ha affrontato sabato scorso, quello dell'Udinese è solo un passo avanti, non è finita per nessuno, l'ex calciatore opinionista della RAI parla della intricata volata salvezza dopo la vittoria dei bianconeri sulla Samp, ora sono in vantaggio anche negli scontri diretti, l'andata era finita 3-3. Il Tuku Social, voglia e fame non devono mai mancare, le parole di Tuku Pereira che aveva pronunciato in diretta alla nostra emittente subito dopo la partita in zona mix, nelle nostre interviste in esclusiva. Andiamo a vedere adesso invece per quanto riguarda il Pordenone, come vi dicevo, qui siamo con la Serie A, con il Milan che ieri ha vinto a Napoli e ha piazzato un colpo importante sul fronte della lotta allo Scudetto, ma vedete quello che vi dicevo e c'è il messaggero rispetto al Gazzettino lancia questa notizia, questa ipotesi di mancata conferma di Tedino al termine della stagione, Pordenone e Tedino, non c'è aria di conferma, neanche il tecnico è riuscito a risollevare le sorti di Nero Verdi, a giugno gli scade il contratto difficile che possa rinnovare e intanto da oggi si pensa al Como, può arrivare il recupero di Barison, questa è la pagina dedicata al Pordenone Calcio, andiamo invece al basket, in questa foto Martelossi e Boniciolli, Udini al concerto di Coppa, siamo una bella orchestra, il direttore tecnico dell'Old Wild West Martelossi apre il conto alla rovescia, la pressione c'è, ma sarà anche stimolante sfidare avversarie nuove e poi la Lega corre ai ripari e varia il regolamento Covid per la tre giorni di gare, il Covid non lascia sogni tranquilli come dimostra il caso del rinvio della gara con Cantù, la legnazione del palacanestro si cautela manando il regolamento ad hoc per la Coppa Italia in caso in cui un club non possa partecipare a una gara della Final 8 a caso di restrizione dell'autorità sanitaria o qualora non abbia a disposizione il numero minimo di 8 giocatori da iscrivere al referto, il club perderà la partita per 20 a 0 a tavolino, quindi non c'è possibilità di scampo, se una squadra sfortunatamente viene colpita dal Covid la Coppa Italia va avanti e se non si presenta perché non può portare un numero di giocatori sufficiente a giocare alla partita si perde a tavolino, questo è quello che succede, il regolamento di Coppa varato in extremis dopo quello che è successo a Cantù, dopo un periodo in cui sembrava essere superata l'emergenza Covid nello sport, nel calcio ormai non ci sono più casi come quelli che hanno portato al rinvio di partita, la mancata disputa e poi con la giusta sportiva che è intervenuta in più fasi al rinvio delle partite che dovranno essere rigiocate, adesso non si registrano quasi più positivi nelle società di Serie A, non c'è un protocollo che prevede tamponi obbligatori, dunque la situazione è molto serena, nel basket fino a un certo punto sì, poi è esplosa questa bomba a Cantù con 8 positivi, Cantù ha dovuto rinunciare alla partita di Udine che sarà rinviata, per la Coppa Italia non è previsto alcun rinvio in casi del genere, andiamo a leggere adesso la Gazzetta dello Sport, vediamo il titolo della pagina dedicata all'Udinese, Udinese più tranquilla con i gol di De Olofeu ed ora il record è vicino, l'attaccante è arrivato a quota 8 come Beto e punta alla doppia cifra, siamo in crescita, ha detto il calciatore spagnolo che punta ad andare a in doppia cifra rispetto alle partite giocate De Olofeu, sicuramente ha avuto dal punto di vista numerico un rendimento per quanto riguarda i gol importante, Concioffi gioca più vicino alla porta, sente tanta fiducia e cerca sempre la soluzione personale, questa è la svolta di De Olofeu, andiamo a vedere la Gazzetta dello Sport che apre con il potere Milan, il Milan che ha vinto è Napoli con la rete di Giraud, una partita ieri che ha messo davanti le due squadre che erano in testa alla classifica, poi scavalcate dalla vittoria dell'Inter contro la Salernitana, il Milan si è ripreso la testa, ma sono tutte lì in un gruppetto di squadre in cui sta arrivando anche la Juventus che ha accorciato notevolmente le distanze dal vertice, c'è da dire però che l'Inter ha una partita da recuperare contro il Bologna, arriva la Juventus, basta solo un lampo di Morata, la risalita va, terzo posto vicino contro lo Spezia, ancora un successo della squadra di Allegri che si sta portando pericolosamente e in maniera molto minacciosa sotto le squadre che lottano per lo scudetto in questo momento, sicuramente è una candidata alla qualificazione Champions perché il rendimento è molto alto e si è piazzato ormai lì, terzo posto vicino, dunque una squadra in grande salute. Chiudiamo la nostra rassegna con le altre pagine di sport, andiamo a vedere il tutto sport dove si parla di Giraud Scudetto, gol importante ma non è ancora finita, questo occorre dire chiaramente perché ci sono ancora tante partite e i punti di stacco tra le squadre non sono tantissimi, Zampata-Morata è invece il titolo che celebra la rete di Morata, il successo della Juve di Misura con tanta sofferenza contro lo Spezia, poi Toro un rigore gigante, il Torino che pareggia a Bologna, l'arbitro non rileva un clamoroso mani di Medel riconosciuto anche da Mihailovic, noi ci chiediamo ma il VAR cosa fa? Colpo del diavolo, questo è il Corriere dello Sport, il Milan conserva i due punti sull'Inter, il Napoli sbaglia tutto, sale più in alto la Juve del Cortomuso con lo Spezia, basta Morata, qui vediamo i festeggiamenti al San Paolo per Giraud dopo il gol che è il risultato poi vincente, il Corriere dello Sport dedica anche in prima pagina spazio all'avvio a Pino Wilson, era ieri il Baronetto, è morto il capitano della Lazio che vinse lo Scudetto nel 1974, è iniziato il campionato di MotoGP ieri, Bastianini il trionfo è per Fausto, Enea Bastianini conquista la sua prima gara nel nome di Fausto Gresini. Abbiamo chiuso con la rassegna, sono le 7.29 minuti, andiamo a ricordare quali sono i programmi principali di oggi, oggi è il lunedì giorno del Tonight, in prima serata alle ore 21 ma avremo come sempre tutti i telegiornali in diretta come potete vedere da questa grafica, in particolare la nostra ora di informazione che parte alle 19 e termina alle 20 con il TG News 24, il TG News Sport e il TG News dedicato a Pordenone e poi le pillole di Fairplay. Questa sera saremo di nuovo con consumatori attivi in città per proporvi ancora dalla città, dai quartieri la denuncia dei cittadini, la denuncia di cose che non vanno nella nostra città sperando di poter dare un contributo alla soluzione dei problemi di Udine, non solo di Udine perché poi saremo anche a Pordenone invece nei prossimi giorni per parlare di altre cose con i nostri inviati, dunque vi invitiamo a seguirci ogni sera alle 20.45 alle 22.15 dal lunedì al giovedì. Vi lascio alle previsioni meteo con Trebi Meteo, buona giornata, ci vediamo alle 12. Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo agli amici di Udinese TV. Persiste una fase siccitosa sul Friuli Venezia Giulia anche nell'avvio della nuova settimana. Il tempo si mantiene dunque stabile ma anche ampiamente soleggiato su tutto il territorio. Continuano ad affluire inoltre correnti fredde nord-orientali e ne conseguono un contesto climatico pienamente invernale con temperature anche al di sotto delle medie del periodo. Ma andiamo ad osservare più in dettaglio cosa ci attenderà su Pordenone e Udine. Una situazione meteo analoga, tranquilla, il tempo si presenterà infatti stabile, ampiamente soleggiato con temperature minime al di sotto dello zero e temperature massime contenute attorno ai 10-11 gradi non oltre. Vediamo ora più in dettaglio cosa ci attenderà su Gorizia e Trieste. Tempo stabile, con cieli sereni limpidi su tutto il territorio, clima freddo senza eccessi nei valori massimi attorno ai 10-11 gradi. Sono i valori minimi ad essere prossimi allo zero o lievemente inferiori specie nelle aree più interne. È tutto ma per dettagli sulle vostre località vi invito a restare aggiornati come sempre sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.